Oggi noi celebriamo il nostro congresso della nostra struttura confederale territoriale che si inserisce in un processo congressuale più ampio, che ci ha visto celebrare migliaia di congressi di categoria e confederali in giro per l'Italia. Ovviamente è una piazza importante perché su questa piazza esistono vertenze rilevanti. Amazon è una vertenza con una grande forza mediatica ma è anche una battaglia strategica perché da come finirà questa vicenda dal nostro punto di vista passa il futuro dell'atteggiamento e del rapporto tra le multinazionali e il nostro sistema paese dal punto di vista delle regole del mondo del lavoro. Amazon si è presentata con un atteggiamento a cui ha snobbato anche le istituzioni locali, insomma clamoroso dal mio punto di vista la mancata partecipazione ad una convocazione del prefetto, ma alla fine la stiamo costringendo a venire a discutere le tavole e a riconoscere il sindacato come interlocutore. Siamo tornati indietro di qualche centinaio di anni, di qualche centinaio di anni, se prima ancora di discutere dei contenuti di come si regolano i rapporti di lavoro siamo costretti a ridiscutere del fatto che i lavoratori si possano organizzare per tutelare i propri diritti. Quindi è una battaglia fondamentale. Altra battaglia, altra vertenza fondamentale è quella di Mercatone, una brutta storia di imprenditori che depredano la propria azienda lasciando allo sbaraglio un mondo e migliaia di lavoratori, una vertenza molto difficile durata anni, durata tre anni, al termine nella quale abbiamo raggiunto dei risultati importanti, anche se sono risultati che lasciano la mare in bocca perché abbiamo salvato il 95% dei posti di lavoro quindi 1925 posti più 285 che verranno recuperati successivamente però certo dietro questi numeri c'è comunque alcune persone hanno perso il lavoro e tante famiglie che sono state messe in ginocchio in queste vertenze. In ogni caso è un'avvertenza che ancora non è finita perché dovremmo vigilare e seguire tutti i processi successivi e devo dire UGL Terziario che è la federazione che segue sia Amazon che Mercatone sta seguendo molto attentamente questa vertenza e colgo l'occasione per fare un ringraziamento speciale alla nostra struttura di Piacenza perché è stato fatto un lavoro enorme che credo ci venga riconosciuto non soltanto dai media ma anche dai colleghi delle altre organizzazioni sindacali, dalle controparti, dalle istituzioni ma soprattutto dai lavoratori.